Cerimonia di apertura dell'anno giudiziario. Anche quest'anno, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria, la cerimonia ha avuto una durata breve e il numero di partecipanti in presenza è stato ridotto ai soli relatori. Nonostante le difficoltà oggettive, la manifestazione è servita a fare emergere i principali problemi del sistema giustizia. La prima preoccupazione, ha affermato il procuratore generale di Firenze, Marcello Viola, è quella dell'incremento dei reati penali legati al lavoro. Sono state 20 le morti sul lavoro accadute nel periodo di riferimento. Crescono anche i reati informatici, mentre diminuiscono i reati predatori, in particolare rapine e furti, e quelle altre categorie criminose su cui ha ovviamente influito la restrizione alla libertà di circolazione. La mafia in Toscana preoccupa nei treci tra criminalità organizzate e imprenditori. L'attività delle mafie, ha ricordato il procuratore delle altre organizzazioni criminali, è continuata senza sosta in Toscana. Nel corso del suo intervento all'anno giudiziario, il procuratore Viola ha anche lanciato l'allarme delle baby gang, un problema detto che non può essere affrontato solo in ambito giuridico, ma anche sociale.